Questo sono io! 30 giorni fa ho deciso di trasformare il mio fisico e raggiungere la miglior condizione della mia vita Ma per un piano tanto ambizioso un mese non basta Per questo mi sono dato 90 giorni di tempo per riuscire nell'impresa Oggi però è il trentesimo giorno e io voglio mostrarvi i risultati che ho ottenuto fino ad ora Quindi riavvolgiamo il nastro Leone oggi è il primo giorno della sfida e voglio spiegarvi quali saranno i miei obiettivi per questo mese Allora prima di tutto voglio perdere peso Attualmente peso 84,9 kg Alla fine del mese voglio arrivare a pesarne 82 E poi voglio migliorare nei muscle up e nella corsa L'altro giorno quando ho fatto il test sono riuscito a fare 6 muscle up di fila Che entro la fine dei 30 giorni dovranno diventare 8 di fila E infine ho corso i 5 km in 21 minuti e 5 secondi Che dovranno diventare 20 minuti e 40 secondi Devo quindi togliere 25 secondi dal totale E vi dirò un'altra cosa Questo è il mio smartwatch Ce l'ho da più di un anno e mezzo Ho affrontato decine e decine di sfide insieme a lui Però fa abbastanza schifo Infatti mi becca le distanze sbagliate e le calorie bruciate non sto nemmeno a dirvelo Quindi mi sono premesso che se nei prossimi 30 giorni raggiungerò gli obiettivi di cui vi ho parlato Mi comprerò un nuovo smartwatch Ora però basta parlare e inizio ad allenarmi Mi asso nella manica le piadine proteiche della ZEC Queste cose hanno per piadina 130 calorie e 9 grammi di proteine Quindi questo è un essenziale per la mia dieta Giorno 5 E questa è la mia condizione Sono in Pampo Ho appena finito di allenarmi Che è bene Ma c'è ancora molto da lavorare Stavo andando tutto alla grande Fino a quando? Oggi è il settimo giorno Ma ieri che era il sesto giorno Ho avuto un po' uno step back Potremmo dire perché mi sono svegliato tardi Ho cazzeggiato e naturalmente ho mangiato di schifo Sì lo so non dovevo farlo Ho fatto un errore Ora vi racconto cosa succede in un mio tipico giorno di sgarro Che solitamente Cade proprio nel weekend La mia giornata parte rimandando la sveglia Perché sono stanco Poi la rimando ancora E ancora E ancora Una volta in piedi Apro Instagram oppure TikTok E inizio a scrollare per ore e ore Tra contenuti di cui non mi frega assolutamente niente E sembro un vegetale mentre lo faccio Poi mi viene improvvisamente fame Vado al supermercato Che sta a due passi da casa mia E compro qualsiasi schifezza Sopra la quale io possa mettere le mani Solitamente le gocciole Mi ingozzo fino a stare male Continuo a scrollare su TikTok E infine quando si fa sera Iniziano ad arrivare quei maledetti sensi di colpa Come potete immaginare Tutto ciò non è una cosa ideale Per una persona che come me Sta cercando di perdere peso Quindi dopo quell'episodio Mi sono obbligato A trovare una soluzione al problema Dovevo tenermi più impegnato nel weekend Programmando delle attività Per il sabato o per la domenica In modo da evitare altre sgarrate simili Il settimo giorno infatti Sono stato a fare una pedalata di 50 km Per provare a limitare i danni Fatti il giorno precedente Ragazzi Ho fatto la casa Occhio bro Comunque ora che conoscevo il mio tallone d'Achille E sapevo anche come evitarlo Era tempo di spingere ancora più forte Verso il mio obiettivo Leone oggi è l'ottavo giorno della sfida Lunedì E dopo lo sgarro dell'altro ieri Questa settimana devo fare il bravo Devo mangiare bene Allenarmi bene E rigare dritto E quindi iniziamo subito Raga sono da un po' davanti al computer Perché sto cercando di capire Quale smartwatch comprare Nel caso in cui dovessi raggiungere Tutti e tre gli obiettivi Che mi sono posto all'inizio del mese Sono indeciso principalmente Tra due modelli Ora ve li mostro Il primo è il Garmin Vivo Active 4 Che sembra essere tanta tanta roba E poi c'è il Forerunner 945 Che ovviamente costa di più Ma me ne hanno parlato benissimo Quindi nei prossimi giorni Valuterò bene In base al prezzo In base alle caratteristiche di ogni modello E dopo di che sceglierò Avevo gola di fagioli Quindi sto provando a fare I fagioli in teccia Che secondo me Verranno fuori uno schifo assurdo Però incrociamo le dita Leone buongiorno Spesso mi chiedete Che integratori uso Ora vi mostro Quale ho usato per questo mese Gli integratori che ho utilizzato Di più questo mese Sono state le proteine isolate Il pre-workout Melatonina Omega 3 E le legend bar Che sono delle barrette proteiche spaziali Ora che sapete quali integratori utilizzo Vi lascio il link in descrizione Sono gli integratori della Zagplus Qualità pura A un prezzo accessibile a tutti Codice Leone58 Per risparmiare il 10% Sui vostri acquisti E ora continuo ad allenarmi Questo è post cena Quindi ho appena mangiato Comunque mi vedo Molto meglio di quando ho iniziato Dove andiamo So cool Andiamo alla Fibo baby Esatto Il dodicesimo giorno Non siamo andati a fare in culo Ma siamo partiti per la Fibo Che è la fiera del fitness Più grande d'Europa E si trova in Germania Siamo stati là in totale Quattro giorni E ci tengo a dire una cosa Uno Quando è all'estero In vacanza Mangia male C'è poco da dire Non venite a dirmi Oh no io mangio bene di qua e di là No si mangia male in vacanza Punto e basta Una sgarrata arrogante Ti parte sicuramente O almeno per me è stato così In quei quattro giorni Ho mangiato tanto Però ho anche cercato Di bilanciare la pessima dieta Con tanto movimento Ho fatto una media Di 25.000 passi al giorno Oltre a tutto il movimento Dovuto agli allenamenti E alle sfide Fatti dentro la fiera E comunque dopo quattro giorni Siamo tornati a casa Oggi è la mattina dopo Colonia Vediamo quanto peso 83.3 kg Che non è eccezionale Però non è neanche male Contando che ho mangiato male Ma mi sono mosso tanto Sarà anche un po' Di ritenzione idrica Da oggi però Si continua a spingere Come dei draghi La settimana dopo Colonia Ho ripreso subito Con la mia classica routine Le giornate erano soleggiate All'aria aperta Si stava da dio E in più gli allenamenti Stavano andando alla grande Però C'era un problema Adesso ho veramente fame Sono le nove meno un quarto E la sto soffrendo Tra circa mezz'oretta Vado a casa E ceno La dieta si faceva Sempre più dura Dopo quattro giorni in Germania In cui ho mangiato di tutto Non è stato facile Tornare al mio classico Reggimi alimentare E in più Dietro l'angolo C'erano Pasqua E Pasquetta Ok leoni Oggi è un bel giorno Perché ho finalmente scelto Che smartwatch comprare Se raggiungerò gli obiettivi A fine mese Ho scelto l'opzione più costosa Ovvero Il Torunner 945 Che costa abbastanza Ma deve essere devastante Da quello che ho letto sul sito E da come me ne hanno parlato È un orologio fenomenale E io ho bisogno di qualcosa del genere Per le mie avventure Ma ci tengo a chiarire Che non è affatto scontato Che io compri Quell'orologio Perché se voglio comprarlo Devo raggiungere Tutti e tra gli obiettivi Che mi sono posto All'inizio di questo mese Quindi rimanete fino alla fine Se volete scoprire Se lo comprerò Oppure no Il giorno di Pasqua Me lo sono goduto Ma sarò sincero Ho esagerato Con la combo di focaccia E crema di nocciole Oggi è il giorno di Pasqua Mi sto facendo Una passeggiatina sgrassante Di più o meno 10 km Per sentirmi meno in colpa Per tutto quello che ho mangiato oggi Poi però anche a Pasquetta Ho fatto un danno Preso sia dalla stanchezza Che da un attacco di fame Non ho resistito E ho sgarrato di nuovo E non dovevo farlo Dopo quella sgarrata Infatti Le cose si sono complicate Oggi è il giorno dopo Pasquetta E sicuramente Sarò più pesante Vediamo di quanto Comunque lo so Non sono stata la persona Più disciplinata In fatto di dieta E alimentazione Ma questi 30 giorni Sono stati importantissimi Perché mi hanno fatto riprendere Quel ritmo Che avevo un po' perso Negli ultimi mesi Infatti ho sentito Che la fiamma che avevo dentro Si stava un po' affievolendo Il fuoco che mi faceva spingere Giorno dopo giorno Si era un po' assestato Ma questo mese è stato importante Perché ho riniziato A premere il piede Sull'acceleratore E a sentire quel senso di fame Che ho sempre avuto dentro C'è un termine che adoro E descrive la persona Che voglio diventare Go-getter Un go-getter È una persona Ambiziosa e determinata Che non ha paura Di inseguire E prendersi ciò che vuole E durante le scorse settimane Ogni volta che mi sentivo Stanco Pigro Oppure debole Mi ripetevo solo una cosa In testa Go-getter Ci siamo Oggi è il grande giorno Infatti oggi dovrò testare Quanto sono migliorato Nei muscle up Nella corsa E soprattutto Quanto peso perso Quindi passiamo subito Alla prima prova Ci siamo E finalmente è arrivato il momento Adesso testo il mio massimale Nei muscle up Sono gasato Perché è un mese Che lavoro su questa cosa Ho spinto veramente un casino Nei muscle up E in palestra in generale L'obiettivo è di farne 8 Ma potrei anche farne 9 O persino 10 Vediamo come sono messo Minimo 8 Ok E ancora uno Allora L'ultimo faceva schifo Quindi ne conteremo 8 8 muscle up di fila L'obiettivo è stato raggiunto E adesso andiamo a fare i 5 km Eccoci qua in pista Arrivati i 5 km Oggi voglio correrli In meno di 20 minuti E 50 secondi Vediamo se tutto l'allenamento Che ho fatto questo mese Ha davvero funzionato Mi preparo e si parte Sei pronto? 3 2 1 Via 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 Sì, sì. La reazione può sembrare esagerata Ma non avevo lasciato niente Ho dato tutto quello che avevo su questo anello Gli ho sofferti tantissimo Ma il risultato è di 5 km corsi In 19 minuti e 49 secondi Che è il mio record in assoluto sui 5 km Battendo pure il tempo che ho fatto a Brindisi E ora che posso fieramente dire di aver passato anche il test sui 5 km E alla grande È il momento della verità Passiamo al peso Ci siamo? L'obiettivo finale Forse il più importante Raggiungere gli 82 kg di peso Quindi avrei dovuto perdere 2,9 kg da quando sono partito Vediamo se ci sono riuscito E andiamo 81,9 kg Questo vuol dire che ho perso 3 kg in totale in questo mese Che è semplicemente tanta tanta roba Tada Leoni acquisto dello smartwatch effettuato Quindi questo non mi servirà più E Leoni noi ci vediamo tra 30 giorni Con dei nuovi obiettivi E il secondo video della trasformazione E il secondo video della trasformazione